in questo borgo da 62 praticamente ci sono non dico nato ma quasi perciò per me il borgo è un paese avrei voluto fare l'artista mio padre diceva che era meglio che imparasse un lavoro che andare a fare l'artista effetto iniziato questo lavoro avevo 13 anni parte che è un lavoro che non si smette mai di imparare perché impari sempre sempre cose nuove da imparare ma il 90 per cento io vado a casa del cliente e vedo il lavoro che c'è da fare e poi gli do i consigli le indicazioni per poter arrivare a quello che vogliono loro un lavoro innanzitutto lavori con le mani e poi era un lavoro creativo perché avevo la possibilità di poter immaginare disegnare i divani poltroni